intanto io comincerei a dire che siamo qua all'area archeologica di Civitucola chiamata Civitucola ma è Capena Arcaica nel comune di Capena con i da zero che sono un grande gruppo originale che io riesco ancora qua a scontrarmi contro il muro mentre hai paura del futuro e siamo solo nuvole stringiamo gli occhi per non piovere non scondiglio per le anime in cerca di serenità ciao a tutti, noi siamo i da zero, Aga, Salvatore, Alessio e Sara e siamo nell'area archeologica di Civitucola nel comune di Capena sono molto contenta di essere qui anche perché siamo tutti delle zone limitrofe nella fattispecie io sono di Capena quindi è un onore e una bellezza stare in questo posto così storico e siamo solo nuvole stringiamo gli occhi per non piovere non scondiglio per le anime in cerca di serenità stanchi di decidere delusi da ogni credere ma in fondo siamo noi il sole dietro a quelle nuvole allora, questo gruppo nasce in realtà per caso nel senso che Salvatore e Alessio avevano precedentemente un gruppo di inediti ma facevano strumentali e un giorno hanno deciso di dare seguito alla loro musica inserendo anche una cantante che potesse aggiungere una voce e delle melodie alle loro canzoni e così ci siamo incontrati casualmente su un noto social per artisti loro cercavano una cantante io invece a mia volta cercavo un gruppo con il quale sviluppare alcune idee e devo dire che è stata una fortuna incontrarsi perché già dalla prima volta che ci siamo visti sono uscite fuori delle cose molto belle volete aggiungere qualcosa ragazzi? siamo straemozionati la bottiglia di vino allora no, giustamente Salvatore scherzava sul fatto che una delle prime volte che ci siamo visti abbiamo organizzato a casa di Salvatore una bellissima cena perché cucina molto bene Salvatore, vero? sì sì Salvatore è di Guidonia e Alessio è di Fiano Romano e insomma ci siamo scolati una famosa bottiglia di Shiraz che ha dato vita a alcune delle nostre canzoni quindi è stata proprio un'amicizia che è nata alla grandissima raccontate come... sì, siamo un po' alcolizzati non è vero, non è vero, non siamo alcolizzati mamma, non è vero mamma sì, stand, capito, i nervi sì, beh, diciamo che ci ha aiutato molto a interagire tra di noi ci siamo subito presi in amicizia e abbiamo tirato giù delle canzoni proprio in quella sera e poi abbiamo capito insomma che c'era la prima volta che ci siamo visti che era... ottobre 2019 ottobre 2019 sì, ottobre 2019 poi ovviamente siamo stati anche noi bloccati a casa dal lockdown però nel frattempo abbiamo continuato a scrivere, a fare delle cose stanchi di decidere deluse e toglie credere ma quando siamo noi sole e pietro e quelle nuvole allora, attualmente siamo quasi a una decina forse sì però adesso però è uscito solamente il nostro primo singolo che si chiama Siamo solo nuvole e prima abbiamo anche suonato in acustico al casale elettrico quindi mi raccomando se volete andate a vedere che è stata proprio una cosa di fortuna bellissima oggi, molto così abbiamo, visto che a caso del lockdown non ci vedevamo da un pezzo abbiamo fatto le prove lì per lì infatti è stata veramente un'emozione ci siamo molto emozionati abbiamo fatto anche delle cose simpatiche perché il plettro di fortuna col pennarello non il plettro, scusa il capotasso di fortuna col pennarello è stato grandissimo salvo, grandissimo come è nato il pezzo di fortuna col pennarello? allora, questi pezzi nascono in vari modi spesso Salvatore e Alessio fanno un giro e poi sopra magari ci butto giù una melodia poi magari mi danno una bella idea di avere il testo e ci facciamo sopra un testo insomma, è un vero lavoro di squadra infatti sono molto contenta perché cioè, è molto difficile trovare qualcuno con il quale non solo ti trovi bene personalmente ma anche artisticamente quindi direi che è top adesso che si possono già sentire ce n'è uno solo perché abbiamo fatto uscire il primo singolo il 26 febbraio poi nel corso di tutto l'anno faremo uscire il singolo si chiama Siamo solo nuvole come dicevo infatti l'abbiamo anche suonato prima e diciamo che anche il tempo odierno ci ha dato spunto perché è abbastanza nuvoloso è stato, anzi prima pioveva in realtà adesso fortunatamente siamo riusciti a raggiungere questo bellissimo posto e non solo al Casale Lettico prima vi abbiamo fatto ascoltare altri due brani anche loro finiti che sono Japanese Mirror che è in inglese e Cambiare Idea che è un altro pezzo in italiano e anche questi usciranno nel corso dell'anno su tutti i negozi digitali nel frattempo se volete ascoltare Siamo solo nuvole è disponibile su tutti i negozi digitali quindi se avete Spotify, Deezer, Amazon Music anche Youtube potete riascoltarlo Qui siamo nell'area archeologica di Civitucolo a Capena e praticamente è Capena Arcaica Arcaica preromana c'è una fondazione che è del nono avanti Cristo ma è diciamo anche preistorica è un sito archeologico che la sovraintendenza dell'Etruria Meridionale e quindi relativa al Museo di Villa Giulia a Roma in una campagna di scavi ha messo alla luce moltissimi reperti di una rilevanza e importanza nazionale tra cui un piatto il piatto che dicevo prima con l'elefante forse non mi interessa no 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 per dire una cosa no no scherzo lo dico scherzando c'è un piatto c'è il piatto di Piro lo dico quando Piro girava per l'Italia nelle guerre pre-imperiali quindi stiamo a parlare dell'epoca del 270 a.C. qualcuno ha fatto un piatto con estrema maestria è stato ritrovato nella necropoli delle macchie che è relativa a questo sito archeologico arcaio quindi abbiamo un lasso di tempo che va dalla preistoria all'età arcaica quindi all'anno zero per cui lanciamo un appello per cui possa essere valorizzato e reso fruibile e anche come dicevamo prima è che il sito del museo di Villa Giulia fosse accessibile come era nel passato che c'era quello semplice www.museo-villa-giulia non c'è più e a tru scopri quindi c'è Valentino Nizzo che è il direttore molto bravo se sentirà questo video lo invitiamo a convergere le energie per valorizzare questo posto questo lo dico perché in antagonismo a Cures Sabini che è un sito che praticamente sorge proprio vicino Amazon e che è stato deturpato, distrutto soprattutto alla reabilità arcaica dai lavori di quei capannoni logistici che poi trattano pure un po' male i lavoratori nella Valle del Tevere ecco chiusero parentesi insomma stiamo qua e ne ripasso il microfono grazie beh io volevo sicuramente associarmi sicuramente in prima persona certo sicuramente in prima persona anche perché sono capenate quindi abbiamo molto a cuore questa riqualificazione di questa area archeologica anche perché in realtà il Lazio è pieno di bellissimi posti che andrebbero riqualificati e magari abbiamo dei tesori che purtroppo sono tenuti un po' così insomma si potrebbe fare di meglio e magari sfruttarli anche dal punto di vista turistico certo allora questo è un vasolato bellissimo è vero però si capisce il gruppo archeologico locale si è dato da fare per riqualificare un po' ma ovviamente c'è necessità dell'appoggio della regione Lazio per riqualificarlo maggiormente appunto come dicevo anche del ministero dei beni culturali come no in modo che comunque possa essere maggiormente sfruttato dal punto di vista turistico insomma noi come da zero siamo molto felici di essere qui e insomma coniugare la nostra arte come no qua un siamo solo nuvole videoclip verrebbe benissimo allora le progetti prospettive per il futuro allora anzitutto speriamo che appunto tutte le aree archeologiche della zona vengano riqualificate noi come gruppo possiamo dire noi possiamo dire dal punto di vista musicale che stiamo lavorando attualmente per l'uscita come vi dicevo di diversi singoli prima il casale elettrico abbiamo abbiamo suonato facendo una prova cinque minuti prima infatti è stato molto emozionante altri due brani che sono appunto Giovanize Mirror che tratta l'argomento di di un maltrattamento in realtà perché come vi dicevo tratta appunto del tema dei maltrattamenti ovvero una ragazza giapponese che in realtà non è giapponese ma ha uno specchio giapponese che diventa alla fine il suo unico amico purtroppo la storia non finisce bene perché la ragazza poi alla fine impazzisce e uccide la persona che le faceva del male e poi l'altro brano che vi abbiamo fatto ascoltare invece è Cambiare idea che tratta anche questo un argomento un pochino delicato una allora come vi dicevo Cambiare idea invece tratta di una di una donna dell'est che giunge qua in Italia non sa come vivere l'unica strada che gli rimane è la strada appunto però nel nel suo andare incontro a questo destino così crudele ha di fronte a sé una scelta e alla fine decide di Cambiare idea Cambiare idea appunto il titolo della canzone si esatto riesce a Cambiare appunto idea e quindi e quindi a rifarsi una vita insomma il cartello in poi è tutta l'università agraria agraria di Capena quindi è deostato insomma è deostato però se tu sei residente da più di dieci anni a Capena fai la domanda in comune se hanno un pezzo dove lo darmo bello questo è tipo un uso civico è una cosa pagina tassa l'anno c'è coltivo certo non ci fa costruire perché giustamente giustamente perché c'è un'area comunque come vedevamo l'altra dal cartello però il problema è quello che naturalistica archeologica c'è bene il parco c'è bene tutto ma che succede infatti qua tu arrivi questo è buongiorno diciamo è buongiorno poi non ti dico su come è bagni buttati a destra ma questo avviene frequentemente la bonnezza è fissa fissa cioè l'hanno levata ecco ma fra me si sarà peggio di l'hanno levata ma già l'hanno ributtata perché noi quando siamo venuti diciamo prima c'era precedentemente c'erano 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 nel più guarda da qua da qua fino a qua giù era tutto pieno era tutto pieno sì l'abbiamo visto anche noi e poi si vede anche diciamo da poi tocca di se la levano perché più di una volta sono venuti hanno levato da qui hanno buttato là sotto l'hanno il comune no 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 vabbè con le istituzioni cioè l'hanno con la provincia o il comune hanno presi ma no l'ultima volta sì 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 non è che l'hanno differenziata cioè per esempio questa parabola abbiamo noi perché voglio dire questa è buona capito per l'altro tv nemmeno adesso l'hanno differenziata comunque comunque avviene frequentemente non si sa di chi è qui sotto qui sotto ci passa il fosso ci passa il fosso ci passa il fosso e spuca qua aspetta che faccio pure una ripresa qua che qui dice guarda sì è molto bella questa cosa che fa l'Elettri TV appunto di coniugare l'arte con la riqualificazione dei luoghi più sperduti tante volte io abito qua vicino quindi purtroppo lo so mi basta uscire da andare e fare un giro in bicicletta per rendermi conto che ci sono molti posti degradati con immondizia eccetera eccetera invece bisognerebbe magari sforzarsi di più per ma io penso proprio a livello di educazione forse le persone non sono molto educate per quanto riguarda appunto proprio la gestione dell'immondizia il fatto che comunque il mondo è un po' di tutti andrebbe rispettato esatto le risorse sono finite per raggiungere un'altra cosa circa un anno fa ho fatto un'escursione a Sant'Orestre che è qua vicino c'è tutto un bellissimo percorso vita poi a un certo punto visto che ho un fratello molto sportivo abbiamo deciso di fare una bella arrampicata nei monti e purtroppo siamo arrivati a un certo punto ad una cascatella che in realtà era una cascata di acqua e immondizia c'era plastica ovunque e sono rimasta veramente scioccata siamo andati a vedere le gole le famose gole di Sant'Orestre purtroppo è veramente sconvolgente perché tu ti trovi immerso immerso nella natura ti aspetteresti tutto bello tutto pulito senza la presenza umana invece poi arrivi a una cascata e c'è cascata di acqua e plastica purtroppo è una cosa che succede molto spesso qua c'è la famosa iniziativa puliamo il mondo tutti gli anni la fanno e io li seguo su facebook è un'iniziativa molto bella e vedo che raccolgono qualsiasi cosa ma poi tornano l'anno successivo esattamente come l'avevano lasciato l'anno prima sicuramente il sistema economico influisce è sicuramente importante non ti hanno sentito la riformulazione di un sistema economico che porti comunque a una maggiore sostenibilità per l'ambiente e anche diciamo diminuire di molto il consumismo sicuramente porterebbe a un miglioramento anche a livello ambientale vengono confirmano confirmano ma le necropoli ci sono? solo per la salva cioè voi le avete mai trovate? le tombe le tombe in passato se le sono fatte tutte le tombe se le sono fatte qui ci sono morti ci sono morti chi c'è morto? ma tipo tombaroli o? perché c'è a Villa Giulia a Roma al museo ci sono i pezzi trovati qua eh c'è un piatto eh il piatto quello eh bravo l'ho trovato qua bravo eh dove sta la necropoli ma? adesso tu sei fermato a farmi lo clip continui qua a strada dritto a un certo punto c'è un monte con tutte le carne del bambino per il monte lì sono tutte le dombe e ora ci andiamo senza voi allora i da zero vi lasciano sicuramente ringraziando tutti voi per aver guardato questa questa intervista così nella natura vi invitiamo a seguirci se volete sui social potete cercarci come dazero.official oppure abbiamo un sito www.dazero.com con la O di da zero scritta a numero e lì potete trovare tutta la nostra biografia le nostre foto i collegamenti alla nostra musica quindi esatto appena finirà questa quarantena non vediamo l'ora di fare i concerti poi dice il centro non si incazza l'autogrill è aperto l'autostrada è stata sempre noi la vedremo dal casale vedremo sempre i camion che quelli devi andare a comprare centro commerciale a Messa ci vanno un silenzio i concerti no apriamo questi concerti apriamo questi concerti allora c'è da dire soprattutto per i concerti che non è solo per gli artisti ma anche per tutti i lavoratori dello spettacolo che non lavorano da due anni ormai è per la birra è per la birra io vorrei figurare un'altra cosa quella è il disegno bravo 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 ragazzi c'è una signorina qua no vabbè non mi è abituata penso no no sempre con rispetto delle donne quindi va bene ringraziamo il casale elettrico per questa elettri tv per questa belle ecco per questa bellissima iniziativa e ringraziamo tutti voi per averci conosciuti qua sotto le tombe sotto alla fine non sa quanti metri so perciò hanno pensato di chiudere le strade e sbancare la ruspa con la ruspa madonna voglio dire nel senso roba proprio da criminali cioè nel senso criminale proprio e questo è rimasto sotto praticamente morto sotto soffocato certo ormai un masso enorme sopra la schiacciata non è stata una tragedia per il paese perché era pure il gendio perché era uno del posto certo quindi c'era come hanno fatto a saperlo l'hanno detto al paese di capena chi stava così se ne sono andati hanno dato allarme al padre a qualcuno era ragazzo eh sì quanti anni fa eh tanti tipo 20 40 ammazza cioè nell'anni 70 45 40 eh e praticamente cioè questa questa qui è la necropoli dove hanno trovato il piatto quello forse pure meno di pirro 30 sicuri il piatto di pirro l'hanno trovato questa quindi sarebbe la necropoli delle macchie dove hanno trovato diciamo il piatto arcaico dell'elefantino di pirro sì ora lo faccio di san martino il piatto è caricato lo faccio di san martino ah no qui no qui di san martino di san martino buon